Commesse in tutto il mondo nuove collezioni offerte di lavoro per gli altotiberini e la storia lieto fine di un'impresa che dopo una parentesi di difficoltà ed incertezza del futuro sta tornando a essere leader nel proprio settore. Si tratta della stile società cooperativa con sede a Bivio Lugnano, frazione nella zona sud del territorio Tifernate. Dopo alcuni mesi di crisi la nuova cooperativa composta da ex dipendenti è tornata a essere un punto di riferimento nel mondo produttivo ed economico dell'intero Alto Tevere. Da 19 addetti iniziali che erano adesso sono diventati 32, la cooperativa a ulteriori progetti di sviluppo che potranno creare nuove posti di lavoro. La nuova stile cooperativa ha aperto rapporti con il mercato del Nord America e della Cina esportando la qualità all'Italian Style. Questa è la nostra formula per il successo, spiega un socio coniugare la qualità dell'artigiano con le caratteristiche della produzione industriale. Un vanto per gli altotiberini e per il territorio Tifernate. A Lugno infatti si era chiuso il processo di workers buyout. I lavoratori della tiberina Legnami in concordato avevano costituito una società cooperativa proseguendo l'attività dell'azienda. L'ennesima crisi che rischiava di mettere a repentaglio oltre 40 posti di lavoro con gravi ripercussioni per un indotto, quello del legno composto da decine di artigiani che invece si sta trasformando in una vera e propria occasione. In poco tempo i soci hanno rimesso in moto gli impianti e iniziato l'opera di rilancio del marchio nei mercati italiani ed esteri, non smettendo mai di crederci di lavorare. Oggi i vertici dipendenti dell'azienda lanciano un'idea, quella di promuovere la creazione di un polo che aggreghi le società umbre che ruotano intorno al legno per offrire ai mercati globali una gamma completa di prodotti che vanno dai pavimenti in legno agli infissi e agli arredi su misura. Abbiamo capito, dicono che da soli è difficile competere, per questo cerchiamo la collaborazione con tutti gli operatori del territorio, fra cui istituzioni, lega delle cooperative, associazioni e simili.